Ovvio che sappiamo bene da dove venivamo. Un 2021 dannatamente positivo, un 2022 drammatico in termini finanziari, un 2023 positivo. Soprattutto gli ultimi due mesi abbiamo visto tutti quanti gli asset possibili e immaginabili rivalutarsi in maniera davvero importante, fenomenale, visto il lasso di tempo. E quindi ora ci chiediamo, e adesso cosa accadrà nel 2024 che è qui alle porte? Il mercato rifiaterà? Ritornerà indietro? O continuerà la sua espansione? Continuerà a correre? Ciao ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale. In questo video mi sono letteralmente divertito a registrare tre contenuti in realtà. In uno vi porterò con convinzioni una tesi rialzista, nel secondo vi porterò con altrettanta convinzione una view neutrale, e nell'ultima parte, quindi il terzo contenuto di questo video, vi andrò a raccontare sempre con enorme determinazione uno scenario negativo. Della serie vi è sempre tantissima e troppa discrezionalità, soggettività. L'obiettività è tosta in realtà, non solo per un discorso di logica, di intelligenza, di preparazione o di sentiment. Proprio perché prevedere il futuro è dannatamente difficile, è pieno di variabili in gioco, molte sono sconosciute, non dipendono da noi e c'è sempre qualche novità. Quindi ora ve le vado a raccontare tutte quante, così ne siamo coscienti, e poi ci rivediamo alla fine per le considerazioni finali, terminali, e vi dirò anche cosa ne penso io rispetto a quello che vi ho raccontato, quali conclusioni possiamo trarre. Buona visione, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like se volete sostenere il mio lavoro qui su YouTube. L'inflazione ormai è stata sconfitta, non esiste più, è un problema superato, il quale si è mostrato intenso e grave, ma soltanto temporaneo. Questo a causa degli interventi estremi a sostegno di un'economia chiusa per delle cause pandemiche, e quindi è normale che poi successivamente si sia creata una spirale inflazionistica, la quale è stata risolta fisiologicamente, ma anche grazie a degli interventi importanti delle banche centrali. Quindi prossimamente le loro politiche potranno diventare più morbide, meno restrittive, e questo consentirà all'economia di non soffrire di continuare a crescere o quantomeno deciderare in maniera contenuta, scongiurare quella che potrebbe essere una recessione, e quindi le aziende protagoniste dei mercati finanziari, dei mercati azionari, potranno continuare a espandere i loro utili e magari anche a contenere di più le spese e a migliorare i margini. Queste sono delle prospettive sicuramente che eccitano i mercati azionari e andranno a concretizzare quella che sarà una continuazione del movimento rialzista. Lo stesso ovviamente non sarà del tutto scevro da movimenti ribassisti durante l'anno, da ritracciamenti normali nell'andamento tipico oscillatorio-ondulatorio di un mercato che deve respirare, della serie assisteremo a delle prese di profitto, a dei pullback, ma il trend di fondo rimarrà rialzista e il 2024 per queste ragioni sarà sicuramente positivo. Difatti vediamo anche un'economia che continuerà a crescere, stiamo parlando di quella americana, stiamo osservando il GDP, ovvero il PIL statunitense, una crescita per il 2024, più contenuta rispetto alle crescite degli ultimi trimestri, ma pur sempre un'espansione dell'economia. Per quanto riguarda la disoccupazione, il tasso potrebbe aumentare al 4,4%, però è veramente ideale, visto l'attuale scenario, perché sarà la conferma di un'inflazione ormai sconfitta, proprio perché sarà un po' più alta la disoccupazione rispetto ai dati odierni, tuttavia non così spaventosi e quindi ancora in grado di poter concretizzare una crescita delle PIL. Questo si va a tradurre nel soft landing, lo scenario migliore, più desiderabile, come fine di un ciclo, diciamo, espansivo, come rallentamento, quindi sappiamo che nei cicli economici abbiamo delle espansioni e poi delle recessioni, ma questo va a rappresentare lo scenario più morbido, più leggero, più contenuto, meno drammatico nella ciclicità delle economie. Quindi lo scenario cosiddetto perfetto, soprattutto per dove eravamo partiti, o meglio, dove stavamo, dove ci trovevamo soltanto qualche trimestre fa. Andiamo ancora avanti, qui osserviamo quella che dovrebbe essere la crescita del mercato in milioni di dollari dell'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale che sarà sempre più protagonista delle nostre vite, delle economie e quindi delle grandi aziende, le quali continuano a guidare per appunto la crescita degli indici, come ad esempio dell'S&P 500, sappiamo come le Big Tech, oltre a tante altre aziende un po' più piccole ma specializzate a livello di tecnologia, comunque abbiano investito, stiano investendo, stiano cavalcando, stiano creando veramente l'intelligenza artificiale. Quindi un mercato che crescerà sempre di più e aiuterà ancora ad aumentare entrate utili, margini e così via. In un attuale scenario, con queste prospettive, l'andamento dell'S&P 500 a livello probabilistico è positivo per il prossimo futuro. Del resto, se abbiamo detto che alcune volte queste aziende probabilmente abbiano un'influenza troppo grande nella loro ponderazione, nella loro partecipazione all'interno dell'S&P 500, allo stesso tempo notiamo come gli analisti vadano a prevedere degli aumenti importanti degli EPS, vedete qui gli aumenti del 2024 per le magnifiche 7, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Alphabet, Meta, Tesla, questi hanno quasi un peso di un terzo all'interno dell'S&P 500. Addirittura le crescite per il 2025 sono confermate e saranno forti, quindi due anni veramente incredibili davanti a noi e quindi diciamo l'S&P 500 e i mercati azionali continueranno a essere trascinati verso l'alto. Tanto più che altri comparti invece sono rimasti ancora indietro e stanno cercando di recuperare il terreno perso rispetto alla crescita delle magnifiche 7. Andando ancora avanti poi notiamo come effettivamente non sia soltanto un discorso delle tecnologie ma anche gli altri settori per il primo trimestre del 2024 sempre secondo le previsioni degli analisti cresceranno veramente tanto ragazzi. Un po' tutti quanti i settori fatte eccezioni per quello dei materiali e dell'energia per i quali è prevista una decrescita per il primo trimestre del 2024 ma spostandoci nel trimestre successivo terzo, quarto, quinto mese diciamo quarto, quinto e sesto mese dell'anno notiamo addirittura qui una crescita di tutti quanti i settori nessuno escluso praticamente a livello previsionale e questo è sinonimo di un'economia in crescita il mercato non potrà fare altro che riflettere oppure cercare di portarsi ancora avanti vista questa espansione degli utili e delle aziende che vanno a comporre diversi settori all'interno dell'S&P 500 e per tutti quanti questi motivi qui abbiamo la Goldman Sachs con i suoi analisti e le sue previsioni ci dice che nel 2024 l'S&P 500 toccherà come minimo i 5100 punti quindi crede proprio che addirittura sarà più o meno la chiusura come livello per il prossimo anno e il 2024 merita di vedere un'S&P 500 come minimo al più 8% rispetto ai livelli attuali questo ci fanno sapere i loro analisti nel 2024 la Fed ci ha fatto intendere come dovrebbe procedere con ben tre tagli per quanto riguarda i tassi di interesse ma il mercato magari anche per la volontà la voglia di andare a eseguire un bel rally di fine anno viste le discese di fine estate e inizio autunno beh si portava avanti andava a scontare questo scenario ma appena ha saputo la conferma negli scorsi giorni ha continuato la sua corsa senza arrestarsi quindi ha approfittato per andare a confermare il suo trend e i suoi utili del resto il prossimo anno l'economia sarà ancora in crescita ma in maniera contenuta quindi nulla di così eccezionale ma un soft landing non è neanche qualcosa di così drammatico pertanto quello che si può pensare che l'S&P 500 non debba vedere un movimento ribassista forte non merita di decrescere rispetto ai livelli attuali ma lo scenario è un po' più quello di un rating hold di un mantenimento quindi non è né un consiglio di vendita né un consiglio per l'acquisto com'è mai questo? beh perché del resto mi spiace perché si sia perso l'impulso rialzista degli ultimi settimane degli ultimi due mesi ma il movimento è ormai compiuto di fatti a fine ottobre iniziava questo nuovo movimento questo che si sarebbe poi rivelato un bellissimo e incredibile impulso rialzista uno dei più intensi degli ultimi anni e di fatti addirittura ha messo in campo un più 15% in due mesi quindi è un movimento veramente forte ci troviamo in ipercomprato e il mercato tramite questi guadagni ha già scontato tutti quanti gli scenari appena menzionati ovvero un soft landing ovvero una crescita modesta non ci sarà la recessione abbiamo capito che dovremmo assistere a tre tagli di tasse di interesse ma questo movimento ha già scontato il tutto quindi per una continuazione del trend rialzista ci dovrebbero essere delle novità altrettanto positive per il prossimo anno perché altrimenti non ci sarebbero dei motivi per continuare a vedere dei multipli ancora più alti per quanto riguarda il mercato azionario e inoltre dobbiamo sempre tenere in considerazione che vi sono tante sfide economiche e le sorprese solitamente sono negative il cigno nero è sempre qualcosa che ci può essere quindi l'invito è quello alla prudenza e difficilmente potremo assistere a un anno a un 2024 positivo come quello del 2023 quindi il giudizio è neutrale guardiamo anche infatti il movimento a livello obbligazionale una bellissima crescita delle quotazioni di quasi il 20% ma anche qui il mercato ormai ha scontato lo scenario dei tre tagli di interesse del prossimo anno e anche qui ad esempio vediamo l'immobiliare un settore che era stato veramente danneggiato il quale ha vissuto una crescita simile a quella dell'S&P 500 se non superiore addirittura un più 24% quindi era stato danneggiato tantissimo ma ormai a questo punto parte del movimento che doveva fare è già stato messo in atto diciamo potrebbero esserci delle continuazioni dei rialzi nei prossimi mesi ma siamo andati già a scontare lo scenario il mercato si è portato avanti quindi a questo punto i guadagni ci potrebbero essere ma non in doppia cifra delle cifre contenute delle crescite modeste un giudizio abbastanza neutrale non è il caso di sovraesporsi di essere totalmente a risk on è meglio costruire un portafoglio bilanciato diversificato ma allo stesso tempo non ci sono delle catastrofi dinanzi a noi dinanzi a noi a livello probabilistico andando a leggere quelli che sono gli indicatori beh non dovrebbe esserci un'annata così positiva anzi mano a mano che i mesi e i trimestri trascorrono la statistica la storia ci insegna come la recessione dovrebbe essere inevitabile e questa possa trascinarsi a ribasso i mercati finanziari e un S&P 500 davvero troppo caro rispetto a quello che meriterebbe e rispetto a quella che è la sua storia ma procedendo con ordine andiamo a vedere alcune notizie ad esempio qui ci troviamo nel blog del Fondo Monetario Internazionale il quale va a evidenziare come la residenza dell'economia a livello globale continui a zoppicare vi siano crescenti divergenze le previsioni di crescita ci sono ma sono tra le più basse degli ultimi decenni se andiamo anche a vedere qui la Federal Reserve ci va a sottolineare un GDP ovvero un PIL americano ma in declino sta scivolando verso il basso e sappiamo storicamente quando ci troviamo alla fine di una fase espansiva e quindi davanti a noi c'è un qualcosa di più restringente di più difficile andare a vivere le indicazioni iniziali a livello proprio storico siano state sempre troppo ricche di ottimismo positive salvo poi quel soft landing desiderato si va a trasformare in una recessione inevitabile e non possiamo poi ignorare la Cina tutte quante le difficoltà di questo gigante ormai a livello mondiale un GDP continuamente in declino tantissime criticità un mercato immobiliare praticamente imploso e quindi forse non abbiamo ancora vissuto le conseguenze che si potranno ripercuotere a livello globale andando ancora avanti poi come non notare una statistica che ha sempre funzionato e ovviamente è logico che sia così ovvero ogni volta che abbiamo raggiunto il picco dei tassi di interesse ormai siamo certi di questa informazione di questa situazione perché la stessa Fed nell'ultima riunione ci ha detto come abbiano intenzione di procedere con dettagli quindi ormai stiamo qui formando il tetto il picco proprio il tetto dei tassi di interesse guarda come in passato una volta vissuto questo ciclo e questa fase come pochi mesi dopo si sia andato a scatenare una recessione quindi tutte le sante volte nei cicli economici è sempre stato così d'altronde va a creare in maniera tardiva delle difficoltà economiche inevitabili non vedo quale sia la ragione per cui questa volta debba essere diverso appare più come un desiderio piuttosto che come una probabilità andando ancora avanti inoltre troviamo la conferma in un altro dato statistico che non ha mai fallito ovvero l'inversione della curva degli interessi a livello obbligazionario quando vediamo interessi a due anni a livello obbligazionario e quindi le cedole che riconoscono i rendimenti essere superiori rispetto al decennale beh qualcosa non va non sta funzionando tanto bene davanti a noi ci sono dei pericoli e infatti sempre lo vediamo qui si è poi andata a scatenare una recessione è stato vero negli anni 80 90 primi anni 2000 nel 2008 qui addirittura nel 2020 e questo livello era stato appena sfiorato pensiamo ad oggi come nel recente passato abbiamo raggiunto dei livelli molto bassi molto intensi in questa inversione del rendimento della curva dei rendimenti addirittura la più importante dagli anni 80 ad oggi non si vede a un livello del genere da 40 anni anche il mercato l'S&P 500 continua inesorabilmente ad essere sopravvalutato e prima o poi il ritorno alla media è fisiologico quindi al di là delle metodologie che andiamo ad utilizzare per individuare il valore di questo indice tutti quanti i risultati comunque ci vanno a fornire un risultato per l'appunto di un indice caro e spostiamoci verso altri ratio altri rapporti di studio e per esempio mettiamo in confronto il classico S&P 500 con un S&P 500 equal weight dove tutte quante le stesse aziende che ne fanno parte hanno il medesimo peso sappiamo come nell'S&P 500 standard non sia così funzioni in termini di ponderazione quindi le aziende più capitalizzate hanno via un peso più importante e più levato all'interno dell'indice e quindi lo squilibrio è uno dei più importanti a livello storico e di solito va a preannunciare delle conformazioni future ribassiste della serie le prime aziende che lo vanno a comporre sono cresciute troppo hanno corso eccessivamente hanno dei multipli elevati quindi è un mercato poco sano in quanto solo un numero ridotto di aziende lo ha guidato e quindi tutti quanti gli altri le altre società sono rimaste un po' al palo abbiamo un problema di ampiezza del mercato e questo non è mai un segnale positivo bensì un segnale negativo e se andiamo addirittura a vedere un altro rapporto il PE non quello standard ma lo Schiller appare ancora più spaventoso quindi per ritrovare un livello così alto praticamente dobbiamo andare indietro nel tempo o i primi anni 2000 quindi quando la bolla esplosa o poco prima che il mercato facesse il meno 35% a causa dello scatenarsi della pandemia quindi sono sempre dei livelli che una volta che sono stati testati raggiunti hanno visto inesorabilmente il mercato ritornare verso delle medie più consone più standard inoltre se noi andiamo a vedere i movimenti delle aziende top dell'S&P 500 ad esempio una Tesla quest'anno è cresciuta di quasi il 100% per delle aziende che capitalizzano quindi parlo anche per altre magnifiche 7 oltre il trilione o comunque che si trovano vicino alla capitazione di un trilione di dollari non è una crescita che possa continuare che possa vedere il prossimo anno lo stesso scenario del 2023 sarebbe insostenibile perché capitalizzano troppo e non è l'espansione dei multipli non è che sarà del 100% i prossimi anni quindi già sono all'interno di queste crescite scontate tutte quante tutte quante le notizie buone che possiamo avere su queste aziende e quindi le notizie nuove che arriveranno potranno soltanto peggiorare lo scenario anziché andarlo a migliorare vediamo anche qui dei multipli veramente esagerati quindi ad esempio qui abbiamo 2023 le stime 96 di multipli 2024 24 78 di pie veramente una situazione eccessiva ma laddove uno non credesse a delle valutazioni che poi possono rimanere anche molto soggettive oltre che oggettive su una singola azienda allora cerchiamo di ragionare dal punto di vista economico e tutti quanti gli indicatori predittivi veramente quasi tutti gridano recessione qui abbiamo delle componenti a livello finanziario non finanziario e la risultante davvero inquietante questo a livello statistico come il rialzo dei tassi di interesse nella statistica precedente che raggiungono il tetto come l'inversione del rendimento obbligazionario della curva beh anche questo indicatore ha funzionato il 100% delle volte quando qui la linea blu si è trovata sotto lo zero poi è seguita una recessione quindi questa è l'ennesima conferma predittiva delle probabilità la certezza ovviamente non ce l'ha nessuna e potrebbe essere una tesi sbagliata ma la tesi rimane molto ribassista per il prossimo futuro proprio a causa della risultante di tutti quanti i dati predittori predittivi economici che hanno sempre funzionato e il loro aggregato è estremamente negativo eccoci qui giunti alla fine ma come mai vi ho raccontato tutti quanti questi scenari con sicurezza con la medesima quando narravo i vari discorsi proprio per farvi rendere conto che non è così semplice tutte le loro tesi hanno a supporto degli argomenti validi ed è difficile è quasi pericoloso rischioso sposare una tesi al 100% se volete chiedermi dove ti collochi tu? beh io diciamo che non lo so e allora preferisco un atteggiamento neutrale ma soprattutto preferisco portare avanti quelli che sono dei piani indipendenti da questa sicurezza di dove staremo il prossimo anno e qualcuno potrebbe dire ma proprio tu che eri così determinato nella tua visione che ti sei così esposto che hai rischiato che hai detto che andavi quasi all in sull'obbligazionario sui trasti immobiliari e beh si ragazzi pensate ad esempio e non meno mi definisco tale neanche mi ci voglio paragonare però vi sono delle analogie molto importanti pensate ai classici super value investor no? un Charlie Munger con pianto super value investor lo stesso Warren Buffett o tutti quanti i nomi che volete voi spesso e volentieri cosa ci hanno detto? che non è così importante e anche perché è quasi impossibile determinare cosa accadrà nella fase del ciclo economico nei prossimi mesi non è così determinante avere il modello di valutazione più sofisticato con 12 algoritmi o un bel modellino Excel in cui andiamo a individuare la quotazione giusta esatta e perfetta di un'azione perché tanto anche in quelle caselle del file Excel ci sarà sempre della soggettività e della discrezionalità ed è difficile ci sono sempre delle variabili bisogna tenere in conto dei margini eccetera il momento veramente ideale per intervenire in maniera massiccia quindi per andare all in o comunque metterci veramente tanti soldi fare la vera scommessa tra virgolette perché poi è un investimento quando è? quando noi riconosciamo che quell'asset sul cui vogliamo investire è dannatamente è tantissimo proprio super sottovalutato è economico a sconto viste tutte quante le cose che sappiamo le nostre considerazioni la statistica i manuali la storia tutto Mr. Market è talmente isterico e spaventato che ci tira addosso quell'asset che sia l'oro che siano le obbligazioni che siano i trasti immobiliari che siano una singola azienda di fatti avete visto come sono diventato aggressivo negli scorsi mesi sui trasti immobiliari e sulle obbligazioni proprio perché venivano annientate dal mercato quindi è lì che subentro la mia sicurezza quando ci troviamo all'estremizzazione di un ciclo economico o quando i tassi stanno a zero o quando sono cresciuti in maniera fortissima con un rialzo epico o quando Meta ha fatto il meno 70% in pochi mesi ecco lì subentra la mia sicurezza la mia visione ma perché è facile lì è difficile solo a livello emotivo non è difficile a livello logico ad oggi invece è difficile a livello logico in questo momento capire dove staremo nel 2024 per questo bisogna prendere tutti quanti gli scenari e non far finta che non esistano tutte quante queste possibilità e allora lì subentra l'importanza della pianificazione sei un value investor beh riconoscerai saprai sempre come riconoscere del valore e probabilmente avrai anche una logica di lunghissimo termine quasi di cassettista avrai delle aziende che hanno un vantaggio competitivo che riusciranno sempre a cavarsela porti avanti un piano di accumulo e ti interessa veramente cosa accadrà il prossimo anno il piano di accumulo è automatico potrebbe essere un piano di accumulo un po' più sofisticato ma sono delle regole scelte a monte a priori non successivamente quando accadranno le cose quindi andrai col pilota automatico hai un portafoglio diversificato bilanciato permanente beh la stessa identica cosa ogni 365 giorni lo andrai a ribilanciare hai delle visioni un po' più tattiche sai quindi cerchi di esporti un po' più settorialmente quando è il momento beh negli sconsi mesi abbiamo visto come fosse il momento per esporsi a livello tattico su asset di cui vi ho parlato quindi non mancheranno le occasioni non mancheranno di nuovo le estremizzazioni del mercato quindi come vedi ci sono tantissime strategie e pianificazioni le quali spesso e volentieri non necessitano di avere la sfera di cristallo l'importante è andare avanti con i propri piani in maniera logica e chiedersi sempre cosa accadrà al mio portafoglio ai miei portafogli alle miei strategie se ci sarà questo questo o quest'altro scenario come mi sentirò io come lo vorrò affrontare e risponderete a tutte quante queste domande ad esempio dopo le mie scommesse vi ho detto come al di là della logica del piano di accumulo che quindi è chiaro che vanno con il pilota automatico al di là anche delle logiche di cercare sempre delle occasioni per la parte di stock picking vi ho detto ok ho compiuto le mie scelte avevo della liquidà extra sono andato pesantemente su questi asset adesso nell'attesa che mi si riproporranno delle occasioni perché bisogna avere tanta pazienza il mio vero obiettivo è adesso accumulare cash per andare di nuovo a cogliere e ovviamente la mia visione quando è che diventerà di nuovo forte perché adesso è un po' più incerta rispetto a due mesi fa quant'è che diventerà veramente di nuovo forte quando rivedrò delle estremizzazioni se vedrò l'S&P 500 a 2500 punti fra un anno non sto dicendo che accadrà non so quello che accadrà vedrete come sarà forte la mia convinzione a stare in acquisto con lo spirito contrarian vedrò fra 5-6-7 anni delle obbligazioni con rendimenti a 0 e tassi a 0 a 2-3 anni beh io la mia parte obbligazionale la saluterò ragazzi veramente perché avrò estratto il massimo avrò spremuto come i limoni i miei recenti investimenti obbligazionali in quel caso e subentrerà una sicurezza ma quando le cose sono talmente eclatanti che qualunque errore qualunque margine è più grande del nostro errore potenziale ecco lì subentra veramente la grandissima sicurezza per il resto siccome per gli altri scenari siccome non possiamo prevedere il futuro allora applichiamo la logica di portare avanti le programmazioni i piani di accumulo le strategie che dobbiamo già conoscere a monte a monte dobbiamo aver già deciso tutto quanto a livello pratico ma anche a livello di testa a livello mentale a livello psicologico va curato questo aspetto il mindset è importantissimo ve lo ricordo e non finirò mai di ripeterlo l'ha detto lo stesso Warren Buffett lo stupido con un buon programma una buona pianificazione batterà nei mercati finanziari il genio quello che è intelligente anche con 10 lauree come è possibile è possibile perché nei mercati finanziari non esistono soltanto matematica statistica o un qualcosa di tecnico scientifico c'è tanto tanto dell'animo umano e anche tutto ciò che è programmato che è algoritmo dietro a comunque tanto dell'animo umano quindi delle emozioni le emozioni estremizzano e guidano i mercati in determinate fasi e quindi anche il genio tecnico il genio matematico a un certo punto commette l'errore fatale a causa delle sue emotività a causa della paura o dell'avidità o dell'overconfidence oppure pensa che non accadrà mai qualcosa di inaspettato ma certo che accadrà non ha tutte quante le variabili anche il più grande matematico che si applica nei mercati finanziari non ha le variabili sotto controllo e questo è il punto e quindi si deve addestrare al mindset soprattutto bene ragazzi io sono qui giunto alla conclusione fatemi sapere voi così per gioco chiacchiere da bar se avete in questo momento una tesi che volete sposare io ve ne ho sempre portate tanti in realtà qui sul canale proprio per cercare di avere tutte quante le fotografie a disposizione le probabilità le varie strade che potrebbe percorrere questo mister market ed essere preparati comunque se ce n'avete una su cui vi sentite un po' più confidenti così per giocare e confrontarci sono ben lieto di andare a leggere quello che avete da dire io vi do appuntamento a prestissimo e nel frattempo come sempre vi auguro il meglio nella vita e negli investimenti ciao